ciao a tutti in questo nuovo video by gattumatotto oggi siamo su pendetown rap questo gioco siamo in un pub irlandese molto violento questo gioco vabbè è violento fa con le facce di questi qua se mi torna esso completamente male che poi la violenza qui non ha neanche senso ma non sa un po' più semplice di ketchup quadrato allora non c'è nessuna via di scampio di scampo sono sono desolato ma chi se ne frega perché mi guardate tutti merda che figo se però forse poi vabbè questo gioco se vuoi scaricarlo è gratis adesso devo vedere che forse il video mi ricordo bene avevo visto che lì so facciamo un contello e diciamo che più che lanciare ste bottigliette qui come lo so su un cazzetto proprio un gancho questo gioco non so se è john cena io vi sto aspettando io dove siete? eccolo lì caccao cacchia roma distendo tutti io vi sto aspettando eh vi aspetto vi aspetto ok ora ci buttiamo ad attaccare ok vai attacca attacca vai facciamo fuori il chitarrista va facciamo fuori il chitarrista è tappato poti imparare a suonare gli strumenti ignoranti allora finirei di prendere sta sedia e lanciarne una qualcuna vabbè li lancio una chitarra non è mai successo ho preso o no? oh io faccio un corso tipo bolt io sono bolt allora questo gioco guardate come si corre davvero sopra bolt guardate cavolo un radio apriti apriti prima che mi stendo non c'è neanche le ombre non posso neanche si delle serie come va a scatti ecco 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 merda tuffo tuffo ma chi sono? vai 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 attacca attacca cazzotti proprio il prato cazzotti cazzotti ma fa sembra sembra che fa un dito medio vabbè come su e iniziamo dai vabbè 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 e iniziamo dai tre minuti solo che io che sono comignonati sapete no? non ci so non c'è c'è del tempo tipo se li lascio in casa dieci ore un minuto anche con i cani se ne accorgono come hanno se ne accorgono come hanno vabbè allora vai prendi ecco prendi questo no merda che sfiga ecco adesso li cerchi i tarristi li lancio in testa perché mi guardi? prendi questo no li lancio questi che sono fuori preso no non è morto prendi questo ecco io voglio la tua chitarra di nuovo io voglio chitarra a caso perché mi sei già rotto vabbè ma che sa cosa ho fatto questo spider spiderman spiderman does whatever a spider can spins a web any size catch your steve just right fly look out to you here comes a spiderman si beh bellissimo si chiama suono a caso allora dobbiamo andare a prendere la mazza da baseball che si allora anche i gatti non stanno appassionando la mia eh che uomo macete e va ah è vero ok non mi ricordo prendete questo attacchi a caso che strage guarda sti qui per terra come si fa le falce sono proprio avete proprio delle brutte facce mi sto aspettando io non ci sono non ci sono non ci sono non scopri non scopri non scopri un scherico dai aspettate ecco sono tornati sono tornati cioè vogliono proprio aspettare che mette un attimo stop ti tagliamo un attimo video ecco mazza da baseball grande ma porca di quella vacca mega fail mega fail con una mazza da baseball del genere non si può far morire e sopravviare questa roba qui senza senso un po' più più a no sense allora dai comunque dietro a questi video come vi dico sempre ci sono sempre dei montaggi molto seri perché adesso io adesso lo faccio e dopo non è che io faccio le scritte mentre le scritte le foto mentre faccio il video ma li metto dopo quindi comunque diciamo che c'è un giorno io tipo 10 minuti di video su due ore ve lo dico solo così lo sapete ed è giusto il tempo che lo sto io per voi per fare i video avere un po' di iscritti che potremmo di averne un po' spero che infatti mi raccomando iscrivetevi al canale se mi piace tutti questi video poi consigliatemi nuovi giochi perché mi sono da categoria game tester perché qui io sto testando dei giochi e mettete mi piace quindi iscrivetevi al canale non sto finendo il video ve lo dico solo ecco vi dico queste cose qua ah si mettete con gli altri quindi iscrivete i giochi che voleste che io giochi giochi a cui volete più giochi dei commenti dai prendi questi oh posso aiutare dai dov'è questo è proprio questa chitarra sarà che è forte come fa che si dico io sono vista dai 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 dagli la roba in testa adesso vai da poi questi in testa dov'è venite venite perfetto merda sono già qua va bene che io sono bolt però ok perfetto oh che fine ha fatto che fine ha fatto che cosa adesso adesso appassiniti alla punta adesso bravi davola sono stanno bene oh prego vintesa voi vedete se vedete guardate in alto a destra in alto c'è c'è una station dove c'è stinta la dita che abbiamo quella nostra che sta abbassando c'è anche invece una che è sotto niente che è la stessa volta pubblicamente pubblicamente c'è c'è una tante persone senza un colpo c'è un palcino e io pubblicamente con la mano le faccio sbagliare e guarda ultima vita oh mi devo per carlo in pieno c'è 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 oh aiutato la testa perfetto anche tetto merda pochissima vita cavolo l'ho finita qui se mi colpisce uno sono morto cavolo però adesso cosa fa siede guarda il cielo vedete la stessa azzurra vedete la vita è finita sono morto però quella azzurra mi piace di avere ancora eccoli eccoli due merda no merda quant'è che registro 9 minuti vabbè per questo video direi che può essere tutto comunque spero a tutti chi vi sia piaciuto questo gioco oppure se mi chiedete come si scarica tanto è gratis non è che sono un capolavoro quindi state tranquilli che non è un gioco a pagamento ci state un secondo scaricarlo se volete chiederti non chiedertemi i commenti iscrivetevi al canale mettete mi piace mettete i commenti consigliatemi altri giochi a cui giocare mi raccomando quindi altri giochi tipo io li testerò infatti questo va da dire una categoria game tester mi raccomando per me è importante iscrivetevi al canale ok ciao a tutti al prossimo video bye gatto matotto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti